Perfetto, buongiorno a tutti, dovremmo esserci, scusate qualche minuto di ritardo, ci siamo fatti due chiacchiere io e Pierpaolo nel frattempo, parlavamo di mercato naturalmente, dei prodotti, anzi questo è un invito quindi anche ad ampliare questa conversazione che abbiamo avuto, come facciamo in occasione di questi webinar mensili, qualsiasi domanda che possiate avere sui prodotti di Unicredit e su come sta andando il mercato, dubbi tecnici sul funzionamento eccetera eccetera, non esitate a farla, come sempre proveremo ad essere il più completi possibile e da rispondere a tutti. Se non facciamo una risposta video, comunque arriverà una risposta scritta direttamente nel tool, quindi non preoccupatevi, anche cose che magari potete ritenere non particolarmente utili per il gruppo ma solo per voi, fatele pure. Detto questo, questa breve introduzione, ciao Pierpaolo, grazie per essere presente anche in questo webinar mensile del Club Certificate. Ciao Marco, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera, numerosissimi anche stasera, quindi sono molto contento, vuol dire che appunto questi webinar piacciono e diciamo cose interessanti. Come sapete parliamo di Club Certificate, quindi parliamo dell'iniziativa nata ormai anni fa di Unicredit in collaborazione con Certificati e Derivati, che prevede un'analisi da parte del centro studi di Certificati e Derivati dell'offerta prodotti Unicredit e della selezione e della creazione di strategie operative attraverso appunto i suddetti prodotti. Per i pochi che magari non la conoscesse o per chi si è iscritto in questi ultimi giorni, la potete trovare sul sito certificati.it all'interno del menu in alto Club Certificate. Vi verrà chiesto un semplice indirizzo mail e una volta appunto inserito l'indirizzo mail potete entrare e c'è appunto tutto lo storico, ci sono i video, ci sono i prodotti che sono stati selezionati. Perché la mail? Approfitto per fare questo appunto per chi fosse già stato iscritto, oggi è arrivata una mail da Certificati e Derivati, anzi agli iscritti del Club Certificate su Certificati e Derivati, è arrivata una mail appunto dal centro studi con un alert sulla chiusura di un prodotto appunto sul quale avevano consigliato l'acquisto. Quindi anche per chi non avesse voglia, tempo, possibilità di seguire il sito e quindi la tabella Club Certificate in maniera puntuale, giornaliera eccetera, non preoccupatevi perché arrivano, devo dire poche, però arrivano delle mail al vostro indirizzo mail per tutto quello che è l'operatività. Magari Pierpaolo vogliamo partire proprio da quello? Sì, direi di sì, si tratta della chiusura del bonus cap su Atlantia, certificato che avevamo acquistato nel corso del 2020, ha una scadenza naturale a dicembre 2021, il certificato oggi è arrivato in area 117, erano rimasti poco più di due punti e mezzo di potenziale rimborso, ancora di potenziale guadagno per la scadenza che però sarà a fine anno. L'avremmo potuto chiudere forse addirittura anche un po' meglio quando Atlantia ha strappato una decina di giorni fa, però abbiamo voluto vedere se effettivamente continuava a correre, si avvicinava proprio al rimborso, non è stato così, adesso da un paio di giorni sta scendendo e pertanto abbiamo comunque deciso di chiuderla, tra l'altro con un risultato, ripeto, interessante decisamente perché un 14 e 50 in pochi mesi, pertanto un risultato positivo. Hai correttamente detto, non arrivano tante email, questo perché il servizio naturalmente non è un servizio di trading, non è un servizio di segnali operativi giornalieri, andiamo ad individuare delle idee, delle strategie che poi possono essere realizzate con tutta calma anche per chi non ha né voglia né tempo da dedicare al trading e quindi mensilmente li vediamo assieme nel webinar. E poi nel corso del mese possono arrivare queste email, quindi come vedete ecco questo è un po' lo storico degli ultimi mesi, come si può vedere non sono decine e decine di operazioni, sono poche, ma a volte meglio poche non buone, c'è da dire che insomma il mercato ha anche aiutato, pertanto ritengo che oltre alla bontà delle analisi fatte dall'ufficio studi, ci sia stata anche la componente mercato che ha portato dei risultati, però ecco oltre a queste c'erano anche altri che abbiamo già eliminato dalla tabella, insomma gli ultimi 8-9 mesi sono stati quasi un filotto pieno, nel senso che sono state tutte operazioni portate in positivo. Quindi non sono chiaramente ripeto situazioni da seguire giornalmente, si possono tenerli con più calma, poi alcune invece hanno magari una vita un po' più breve, come può essere uno degli cash collect airbag che abbiamo inserito, il secondo che vediamo in questa tabella, in particolare quello che termina con EV50, no quello sopra, che praticamente è acquistato, segnalato a 977 euro, potrebbe andare in rimborso anticipato da qui a un mese circa e rimborsare 1015, adesso vado un po' a memoria, quindi comunque c'è poco spazio ma lo abbiamo preso proprio con l'ottica di un rendimento magari più sul breve, fermo restando che è una struttura che se non dovesse andare in autoball potrebbe comunque continuare a pagare. Insomma, questa è un po' la situazione, ci sono come vedete evidenziate le ultime operazioni e nella parte inferiore della tabella c'è il commento dell'ultimo webinar, quello del 27 gennaio, dove abbiamo chiuso alcune posizioni e le abbiamo aperte di nuove. Quindi quello che abbiamo appena detto, l'airbag, ma anche ad esempio il cash collect sui due indici, piuttosto un bonus cap su Tesla, ecco queste sono nuove, sono state aperte di recente e quindi diamo spazio di poterci lavorare. Tra l'altro proprio queste potrebbero essere posizioni ancora potenzialmente costruibili in questo momento, ad esempio anche il bonus cap su Tesla che è l'unico che in questo momento ha un valore negativo nel portafoglio e perché Tesla in maniera abbastanza inconsueta è debole da una settimana circa e quindi il prezzo è sotto la pari. Ma è un certificato molto interessante, anzi Marco, se vuoi possiamo dare un'occhiata veloce anche a questo certificato perché è un... Perfetto, eccolo qua. Esatto, così. Perfetto, bonus cap su Tesla. Tra l'altro è arrivata una domanda adesso che ci chiede il commento su un certificato, sempre bonus cap, infatti la domanda è che prospettive possiamo dare su questo prodotto, qual è il nostro commento su un prodotto che come dice appunto la persona che ha una barriera in continuo, quindi noi possiamo vedere questo intanto su Tesla che appunto come dicevamo è l'unica posizione, quindi proprio sei andato a prendere l'unico prodotto che in questo momento ha una variazione negativa rispetto al prezzo di acquisto, però vediamolo subito, questo è un bonus cap su Tesla, mercati ancora aperti naturalmente, quindi in questo momento quota 93,20 in lettera, 93,05 in denaro. Tra l'altro mi permetto di far notare come lo spread in questo caso sia molto limitato, siano 15 centesimi a fronte di uno spread magari sulla maggior parte dei prodotti di investimento che è posto a un euro, in questo caso invece siamo a 15 centesimi, quindi spread ridotto. In questo caso quindi sotto la pari 93, un prodotto emesso a inizio di quest'anno, quindi con Tesla che aveva già fatto una corsa appunto, come dire, anche reduce dalla corsa dell'anno scorso, infatti ha un valore iniziale di Tesla in questo caso di 849 dollari, perfetto, e a fronte di un valore attuale di 784, più o meno, queste sono naturalmente indicazioni di quotazione in tempo reale. La cosa interessante forse di questo prodotto, visto il profilo assolutamente di rischio, perché parliamo di un prodotto su Tesla, come sappiamo tutti Tesla ha fatto una corsa eccezionale, pazzesca, negli ultimi mesi, negli ultimi 12 mesi forse, e quindi questo prodotto a fronte di una scadenza a un anno, perché alla scadenza a dicembre 2021 paga un rendimento del 64% su base nominale, quindi paga la 164 euro, a fronte di una barriera in continuo, quindi una barriera che può venire rotta in qualsiasi momento, posta al 70%, quindi a 594 dollari, 608. Esatto, Marco ti volevo chiedere se possiamo dare, aspetta adesso stavo cercando di aggiornare una pagina, perché volevo farti vedere il motivo per cui questo certificato continua ad essere a mio avviso interessante e soprattutto quale tipo di strategia eventualmente si può mettere in pratica con questo strumento. Se vuoi che ti passi il controllo? Sì, esatto, se mi puoi passare un attimo il monitor. Perfetto, dovresti averlo. Ecco qui. Allora, ti spiego il motivo per cui questo certificato continua ad essere a mio avviso interessante, fermo restando che è un bonus, cap, Tesla è un titolo volatile, la barriera è americana, cioè vuol dire può essere rotta in qualsiasi momento. Il motivo lo vediamo in questa analisi di scenario che tra l'altro anticipo che è anche migliore di quello che stiamo vedendo, cioè è fotografata in questo momento su un prezzo lettera di 95,10 e un prezzo di Tesla di 785, mentre ora abbiamo Tesla 788 e il certificato che quota 93,20, quindi in realtà sarebbe ancora più sbilanciata. Cosa c'è di particolarmente interessante in questa analisi di scenario? Il fatto che a parità di Tesla, prezzi superiori ai valori attuali o inferiori fino alla barriera, come hai detto tu, dei 594 dollari, ci sarebbe un rendimento in questo momento di circa il 75%, da qui a fine anno. se Tesla perdesse più del 30% andando a finire sotto la barriera, accadrebbe praticamente che il certificato da quel punto si allineerebbe alla performance di Tesla. Però vediamo che già sulla base di questa analisi di scenario sarebbe quasi lineare, ricordiamo che Tesla non paga dividendi, il che vuol dire che se effettivamente perde il 30% non c'è da scontare anche i dividendi eventualmente residui. Se però consideriamo appunto che l'analisi di scenario è anche un po' spostata in questo momento a favore migliore di quello che stiamo vedendo, vuol dire che a fronte di un meno 30% di Tesla io andrei a perdere con il certificato meno del 30%. Facciamo che sia il 28-29%, ma poco cambia. Qual è lo spunto operativo che mi permetto di indicare? Se non si vuole prendere posizione in maniera totale sul certificato, nel senso mi espongo totalmente al rischio di rottura della barriera, posso eventualmente creare una strategia. In questo caso è la strategia long-short, cioè cosa vuol dire? che vado long sul certificato e contestualmente vado short sul titolo Tesla. Come andare short su Tesla? Poi ovviamente ognuno trova il metodo, ci sono dei certificati che permettono di farlo, si può andare ai corti direttamente sull'azione, su un CFD. Adesso non mi interessa tanto la dinamica del come, però è il perché. Se io adesso ad esempio comprasse il certificato e contestualmente vendessi azioni Tesla per un controvalore equivalente e il calcolo lo possiamo fare utilizzando il multiplo, cioè vuol dire ogni certificato che io vado ad acquistare mi controlla 0,11 azioni Tesla. Quindi se io compro 100 certificati dovrò andare a vendere sul mercato praticamente 11 azioni Tesla arrotondando a 12. Cosa succede? Che se Tesla da qui a fine anno, quindi alla scadenza di fine anno, avrà guadagnato il 70%, praticamente avrò perso il 70% dallo short, guadagnato il 75% dal certificato, alla fine non ho fatto un grande affare. Ma se Tesla ad esempio anziché guadagnare il 70% guadagna il 20%, io guadagno il 75% dal certificato, perdo il 20% dalla copertura. Se Tesla rimane ferma, è uno scenario ideale, addirittura se perde il 20%, guadagno sia dal certificato che dalla copertura. Se invece rompe la barriera, sono praticamente sterilizzato nel mio portafoglio, perché quello che perderò dal certificato lo guadagnerò dalla copertura. Chiaramente bisogna verificare a quanto mi costa shortare Tesla da qui a fine anno, ma potrei anche decidere di non portarlo a dicembre. Dal momento il certificato deve dare 164 euro a dicembre, è evidente che se noi ci trovassimo fra quattro mesi con Tesla ancora a 785 dollari, il certificato molto probabilmente a parità di volatilità potrebbe certamente più di 93, perché il tempo che passa fa apprezzare lo strumento. Quindi questa è una strategia che uno potrebbe mettere in portafoglio, sa che ci sono due scenari su tre a favore e uno a sfavore. Quello a sfavore, tra l'altro, potrebbe anche essere in questo momento il meno probabile, cioè quello che vede Tesla fare più dell'80% di rialzo. Se questo non accadrà, tutto ciò che è tra meno 25 e più 70 è guadagno. Se fa più di meno 25 in qualsiasi momento e rompe la barriera, a quel punto me ne torno a casa più o meno col capitale che avevo al netto dei costi di finanziamento della posizione short. Perciò ecco, il certificato continua ad essere, a nostro avviso, molto interessante per questo motivo. Perché? Perché ha tanto margine e ci si può costruire una copertura. Poi si può aggiudere anche di farla parziale. Anziché coprirlo totalmente, compro 100 certificati, vado porto di 6 azioni Tesla. In questo modo, se anche dovesse salire molto, non mi mangio tutto il guadagno potenziale. Interessantissimo, sì, interessantissimo. Tra l'altro, appunto, questa cosa che hai detto mi fa venire in mente delle strategie che avevi fatto in passato, sempre tramite il Club Certificate, in cui eri andato a selezionare un bonus cap, un top bonus, comunque un prodotto di tipo bonus long, e l'avevi abbinato con un prodotto reverse bonus, quindi con un prodotto che andasse contro lo stesso sottostante del long, che avevi scelto in modo tale da andare a crearti una sorta di corridoio in cui andare a praticamente ottimizzare lo scenario di rendimento. Ultimamente queste strategie sono un po' meno... Ecco, esatto. Diciamo che quelle sono strategie che vivono meglio in un ambiente di bassa volatilità, perché tu avendo due barriere, una rialza e una ribasso, come hai detto giustamente, il corridoio è da mantenere e quando c'è minore volatilità è più probabile che tu rimanga nel corridoio. Quindi sono state da noi raccontate e descritte per almeno un triennio fino allo scorso anno. Poi quando la volatilità è andata molto su, abbiamo capito che c'erano troppi rischi nel tenere la strategia long-short e quindi l'abbiamo praticamente chiusa, anche l'ultima che avevamo che era su Mediaset e un'altra su Tesla, lo vediamo giù in fondo, proprio l'ultima della tabella, l'abbiamo chiusa a un certo punto perché comunque non aveva più modo di esistere. Quindi le strategie long-short sono ancora estremamente interessanti, però quando la volatilità tende a scendere. Viceversa questa, avendo tanto margine, questa sul bonus cap secondo me può essere una cosa che si può costruire, partendo dal presupposto che si può guadagnare a parità di sottostante dal solo passare del tempo e devo dire che è una bella soddisfazione. Se immaginiamo una Tesla ferma da queste parti, da qui a quattro mesi, il certificato da 93 che è qua da adesso, adesso non l'ho stimato, ma si può fare un'analisi di sensibilità, insomma di uno scenario, anzi è una cosa che probabilmente se mi fosse venuto in mente prima, perché spesso io racconto anche ciò che mi viene in mente mentre parlo, però si potrebbe anche stimare a parità di volatilità da 93, un certificato che potrebbe benissimo stare anche intorno ai 108-110 facilmente fra quattro mesi, forse anche qualcosa in più. Certo, guarda, chiede Mauro se, una domanda difficile però questa, chiede se come si può fare non avendo la possibilità di shortare il titolo Tesla? In effetti una strategia long short senza possibilità di shortare forse è un po' più complicata. Allora, sì, diciamo che chiaramente si può prendere il certificato a sé, partendo dal presupposto che Tesla è comunque un titolo che sta dimostrando di essere comunque solido, anche in questi giorni che c'è un po' più di nervosismo, tutto sommato ha corretto di un 8-9% dei massimi storici, poi dopodiché è chiaro che può capitare anche che a un certo punto il mercato decida di far correggere Tesla in maniera un po' più decisa. Quindi se non si può shortare Tesla, non si può andare ai corti di Tesla in nessun modo, ovviamente si può andare solo sul certificato, accettando il rischio di barriera continua, aumentano un po' i rischi, ma aumenta, cioè rimane integro tutto il potenziale rendimento. Detto questo, comunque, adesso Marco, voi Turbo Certificate su Tesla non ne avete, però è comunque qualcosa che eventualmente si potrebbe anche pensare di quotare, se sarà possibile. Insomma, diciamo che i metodi per andare ai corti su Tesla oggi non sono solamente aprire un conto in America e vendere Tesla. Esatto, sì. Allora, adesso giusto per fare un appunto, non ne parliamo in questi web, sono prodotti un po' diversi, noi come Unicredit, come emittente sul mercato italiano, abbiamo i prodotti che sono i cover warrant, che sono delle opzioni cartoralizzate, listate sul mercato, che permettono di andare short. Non ne parlerei adesso perché sono prodotti che un po' esulano dal tema di questo webinar, quindi non ne parlerei, però tendenzialmente, appunto, vari modi per andare short su Tesla, sul mercato ci sono, sia tramite Unicredit che tramite altri emittenti, come diceva Pierpaolo, come appunto stai facendo vedere tu adesso l'intera offerta che abbiamo su Tesla e non mi sembra che abbiamo adesso dei reverse bonus su Tesla e se li abbiamo quotano tutti... Sì, esatto. ...monto poco, se non zero. Perfetto. Adesso, se non è andato in bidonli, forse, sai, paradossalmente potrebbe anche esserci, ad esempio vedo questo, 67,89. Allora, il problema del reverse bonus cap è che se sale molto, poi dopo rischia di azzerarsi, ma tanto alla fine, anche se hai lo short, rischia di farti male. Quindi questo... Guarda, ma proprio perché ci siamo, e poi passiamo ad altro, però per non lasciare nulla completamente al caso, per dare solamente un'occhiata a questo reverse bonus cap come quota in questo momento, scaderà a dicembre 2022? No, quota troppo alto rispetto al teorico, quindi non è acquistabile. Però, comunque, insomma, lo hai detto, giustamente ci sono... Ci sono altri metodi, assolutamente. Esatto. Sì, sì, sì. Ti riprendi il monitor? Così magari... Sì, dai, passami, passalo pure. Ma lo devo fare io, giusto? Faccio io, faccio io. Sì, sì, sì. Assolutamente. Perfetto. Allora, diciamo che quindi questo è un po' il commento alle strategie, pertanto vi invito, ripeto, a andare nuovamente nel club, ci sono quelle già aperte anche da poco, ci sono comunque certificati che possono essere acquistati anche adesso, anche se li avevamo raccontati il 27 gennaio. Dopodiché abbiamo selezionato delle nuove proposte, però Marco hai anche tu magari una novità da farci vedere e poi possiamo... Certo, grazie mille. Sì, allora, come Unicredit in questo momento stiamo emettendo veramente tanto, quindi è anche giusto andare appunto anche un po' a dare un po' un overview e una rappresentazione di quello che stiamo facendo, giusto? Perché tutti possono comunque rimanere aggiornati sulla gamma e appunto poi poter andare a scegliere se e quali prodotti possono essere adatti alla propria operatività. Giusto per dare una piccola overview. Gli ultimi prodotti emessi sono stati i fixed cash collect, quindi prodotti che in questo caso hanno una scadenza a tre anni e pagano dei premi mensili e fissi, incondizionati. Questo vuol dire che non sono premi che dipendono dal sottostante al di sopra di una determinata barriera appunto nel giorno dell'osservazione. Quindi questi sono prodotti che vanno a pagare i premi mensili in maniera fissa. Un'altra differenza che hanno questi prodotti da, come dire, dai classici prodotti di tipologia cash collect è che sono prodotti che non possono scadere anticipatamente. Quindi a chi si rivolgono? Tendenzialmente a chi vuole comprare un prodotto e poi sapere che quel prodotto tendenzialmente, potenzialmente può lasciarlo in portafoglio fino alla scadenza. Poi naturalmente sono prodotti che vanno monitorati, che appunto sono prodotti molto rischiosi, una cosa che non mi stancherò mai di dire, però tendenzialmente non è un prodotto che ha la possibilità di scadere anticipatamente. Quindi vanno a pagare dei premi fissi mensili per tutta la durata della vita fino alla scadenza. Alla scadenza entra in gioco la barriera. La barriera in questo caso è posta tra il 60 e il 70% del valore iniziale a seconda del sottostante che è stato scelto. E a scadenza, nel caso in cui il sottostante sia superiore o pari alla barriera, quindi nel caso di una barriera al 60%, nel caso in cui non abbia perso oltre il 40% rispetto al valore iniziale o il 30%, nel caso in cui sia un prodotto con la barriera al 70%, viene rimborsato, oltre al premio che viene pagato, il valore nominale, quindi 100 euro. Viceversa, nel caso in cui il sottostante dovesse trovarsi al di sotto della barriera, non viene pagato l'ultimo premio, quindi l'ultimo premio non è fisso, e viene pagato un importo che è commisurato all'andamento negativo del sottostante, quindi c'è una perdita in conto capitale. Giusto per dare un overview dei prodotti, visto che sono secondo me molto interessanti, sono stati emessi una settimana fa, Pierpalux, questi prodotti, erano una delle cose di cui parlavamo prima, e sono stati molto apprezzati, devo dire, secondo me in maniera, non voglio dire in attesa, però tendenzialmente quello che vedevamo noi come emittente era una preferenza negli ultimi mesi per prodotti e scritti su panieri di azioni, quindi i cosiddetti basket worst off, in cui ci sono appunto più di un sottostante, e si va a prendere il peggiore. In questo caso, invece, devo dire che gli investitori hanno comunque dimostrato apprezzamento per questi prodotti, che quindi sono prodotti diversi, hanno un solo sottostante, quindi sono meno rischiosi tendenzialmente, hanno premi fissi e pagati su base mensile, e hanno una scadenza a tre anni, e, a differenza dei worst off cash collect, non possono scadere anticipatamente. Sono stati emessi 21 prodotti, sui maggiori titoli italiani, europei ed americani, e pagano premi che vanno fino all'1,45% mensile, che è naturalmente il più rischioso, perché naturalmente sappiamo bene che più il premio è alto, più è volatile il sottostante, tendenzialmente. In questo caso parliamo del titolo NIO, come sottostante, quindi è un prodotto che paga l'1,45% fisso, pagato appunto mensilmente. Poi troviamo tendenzialmente un po', con una barriera al 60%, tra l'altro, quindi barriera abbastanza conservativa rispetto alla gamma. Poi troviamo, allora sto pensando a quelli che hanno venduto di più, perché giusto per non, tra l'altro sbilanciarmi con opinioni mie, a parte NIO, abbiamo due titoli italiani, che sono Enel ed Eni, quindi appunto rispettivamente un premio fisso mensile dello 0,35% su Enel e 0,50% su Eni, quindi un 6% annuo su Eni e un po' meno su Enel, un 4,20% su Enel all'anno fisso, e poi Intesa San Paolo, Intesa San Paolo come Eni paga 1,50 centesimi al mese per certificato, quindi sempre un 6% annuo. Non so Pierpaolo se tu li avevi visti, sono stati messi da poco e non abbiamo ancora parlato in verità, però appunto gli investitori insomma li hanno trovati e hanno cominciato a vederli. Faccio solo vedere magari come arrivare alla brochure, perché appunto l'ho fatta vedere in maniera abbastanza veloce forse, quindi dalla nostra home page, quindi il sito investimenti.onicredit.it, il banner in prima pagina, nuovi fixed cash collect, premi incondizionati fino all'1,45 mensile, possiamo schiacciarvi sopra e troviamo qui brochure emissione febbraio 2021 e possiamo arrivare quindi alla brochure, potete anche stamparvi naturalmente, è un documento di marketing, naturalmente, quindi io vi invito a leggere anche il key delle condizioni definitive, naturalmente, questo è un po' un documento che va a riassumere in maniera un po' più semplice il funzionamento dei prodotti. Sì, no, naturalmente sì, li ho visti e devo dire che non mi sorprende, ho sorriso quando hai detto che quello tra i più scambiati c'era Nio, ma perché semplicemente questo è un periodo in cui chi compra sul mercato, in particolare in generale, ma anche i certificati, è comunque alla ricerca di alti rendimenti e quindi insomma, non mi sorprende che ci sia quello che paga l'1,45 al mese perché poi alla fine è quello che permette di fare potenzialmente i ritorni più alti anche su un titolo tra l'altro che per quanto caratterizzato d'altissima volatilità sembra avere delle buone prospettive davanti. Detto questo, poi negli ultimi due giorni ha perso quasi il 10%, quindi ricordiamo sempre quello che hai giustamente anticipato ovvero sono prodotti caratterizzati comunque da un'importante dose di rischio ma non perché siamo più rischiosi di altri ma perché dove c'è una barriera che si può rompere il rischio esiste, poi se la barriera è al 40%, naturalmente saranno un po' meno rischiosi ma altrimenti c'è sempre. Quindi quello sul Nio capisco, gli altri tre invece erano esattamente quelli che immaginavo perché non tutti coloro che comprano certificati sono alla ricerca dell'opportunità dei breve addirittura che compri oggi e rimborsa fra una settimana che sono comunque molte delle analisi che facciamo anche noi dell'ufficio studi. Cioè oggi c'è comunque una folta platea di investitori consulenti finanziari che comprano per i clienti e che quindi devono inserire in portafoglio gli strumenti e anche avere un certificato che rimborsa dopo due mesi che l'hai acquistato poi devi comprare un altro non devi trovare per carità ci sono ben altri problemi però a volte ecco avere un'idea di un prodotto che rimane in portafoglio per tre anni ti paga delle cedole senza dover andare a guardare l'andamento del sottostante e ti risolve magari la ricerca o il problema di dover ogni tanto ritornare e trovare delle nuove alternative tra l'altro i tre titoli Eni generali Intesa Enel sono poi alla fine quelli che sono più presenti nei portafogli quelli che si comprano più volentieri quindi ecco non mi sorprende tra l'altro ripeto che credo che questa sia una serie di emissioni che ha un target ben preciso quindi non è l'investitore predisposto al rischio più 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 insomma più alto che cerca rendimenti del 15-20% all'anno si accontenta se così vogliamo dire di un 5-6% all'anno per avere comunque uno strumento che il portafoglio può rimanere per i tre anni e poi ci si pensa insomma quindi e sull'aspetto del worst off ultimo commento è vero anche questo quello che dici è vero che c'è comunque ormai una buona predisposizione ai prodotti con titoli in un basket quindi di tipo worst off però è innegabile che quando hai un solo titolo quantomeno eviti il rischio di correlazione e quindi ti leghi solo quello e puoi fare le due previsioni solamente su quello quindi avere la possibilità di andare su un solo titolo e avere un prodotto che paghi bene e abbia una buona protezione poi alla fine si preferisce il problema è che non si riesce a costruire i prodotti con un solo titolo con quelle caratteristiche e quindi si va sul basket ma quando c'è la possibilità perché ti accontenti come ripeto di un 6% all'anno ovviamente si può andare tranquillamente su questo sì guarda sono arrivate un sacco di domande a cui ho risposto per la maggior parte in maniera appunto privata e provo a fare una piccola un piccolo recap e per quanto riguarda i reverse le condizioni di mercato non permettono la creazione di prodotti interessanti in questo momento e barriere c'è qualcuno che chiede barriere al 50% devo dire è qualcosa a cui stiamo pensando in verità soprattutto in un momento di mercato in cui siamo veramente ai massimi una cosa che abbiamo fatto è stato fare degli airbag che con la barriera tra il 60 e il 70% quindi essendo airbag sono addirittura cioè sono più appunto protettivi quindi perché fare un airbag con il mercato ai massimi perché in un momento in cui c'è possibilità di forti discese non perché lo dico io ma perché quando il mercato ai massimi cioè tendenzialmente magari uno pensa anche a coprirsi in qualche modo quindi un prodotto con l'airbag che non sono questi che abbiamo visto adesso può essere una soluzione per proteggere proteggersi un pochino di più in caso di scenari negativi tra l'altro un airbag al 60% è più conservativo di magari una barriera al 50% quindi sono tutte valutazioni da fare e una domanda che è arrivata da molti è per quanto riguarda la fiscalità quindi se anche questi prodotti pur avendo l'accedola fissa incondizionata compensano le minusvalenze allora tu correggimi se sbaglio se dico castronerie però anche in questo caso si tratta di redditi diversi quindi anche in questo caso sono prodotti fiscalmente efficienti e che dovrebbero compensare le minusvalenze per crescere in portafoglio poi il mio consiglio è sempre quello di appunto rivolgersi o ad un consulente fiscale oppure direttamente al proprio intermediario perché come sappiamo ci sono intermediari che agiscono in maniera diversa alcuni compensano immediatamente altri compensano a scadenza quindi appunto fare un cerchio col proprio intermediario è sicuramente la cosa più giusta da fare se l'obiettivo è utilizzarli per appunto questo motivo sì sì hai detto correttamente forse più che il consulente fiscale proprio la banca perché tanto a meno che si sia in regime dichiarativo allora ok ma se si è in amministrato e quindi è la banca che si sostituisce a noi allora a quel punto è bene sentire come tratta fiscalmente detto questo l'impostazione prevalente è quello che anche i premi incondizionati vengano utilizzati per la compensazione delle minusvalenze c'è qualche voce fuori dal coro per fortuna isolata per fortuna lo aggiungo io naturalmente però ecco l'importante è verificare prima con l'intermediario però in linea di massima è così esatto esatto perfetto allora se non ci sono altre domande su questi visto che comunque ho visto che c'è stato interesse anche appunto mentre parlavo sono andate molte domande e visto che appunto come dicevo abbiamo fatto molte missioni e vorrei a meno dare un overview su tutte la seconda dicevo ne abbiamo parlato anche poco fa sono gli airbag che è let con effetto memoria quindi questi sono dei prodotti tra l'altro ne abbiamo già visto marginalmente uno all'inizio del webinar quando abbiamo fatto vedere il club certificate perché uno di questi prodotti era stato messo all'interno del club se non sbaglio o forse era uno di quelli vecchi comunque era un prodotto di questa etnologia però comunque sì ne avevamo parlato anche di uno nuovo esatto perfetto ah sì e dopo appunto se non sbaglio mi dicevi che ne avevi visti due o tre di questa ultima missione perfetto quindi possiamo parlarne sempre nel stesso percorso il sito investimenti.onicredit.it siamo nella landing page degli airbag cash collector stuff brochure terza emissione andiamo a prendere l'ultima quindi gennaio 2021 quindi è messi da pochissimo in questo caso quindi parliamo di un prodotto completamente diverso da quello che abbiamo visto prima parliamo di un prodotto che paga dei premi trimestrali con effetto memoria nel caso di prima non c'era l'effetto memoria perché erano fissi quindi non serviva che hanno la possibilità di scadere anticipatamente a partire dal sesto mese quindi da in questo caso il sesto mese è a luglio quindi il sesto mese di vita del prodotto siamo a luglio che pagano premi quindi condizionati con effetto memoria possibilità di scadenza anticipata sono prodotti che hanno poi una scadenza a due anni quindi li abbiamo fatti un po' diversi dal solito anche per farli un po' meno rischiosi tendenzialmente quindi abbiamo accorciato un pochino la scadenza rispetto ai canonici tre anni e sicuramente la cosa più importante in questo caso è che la barriera è di tipo airbag di tipo airbag cosa significa? significa che nel caso peggiore quindi nel caso in cui andiamo a scadenza a rompere la barriera quindi sottostante peggiore va a rompere la barriera quello che succede è che il rimborso che viene pagato non è commisurato all'andamento del sottostante peggiore ma viene utilizzato appunto l'effetto airbag effetto airbag qui abbiamo messo una spiegazione come da condizioni definitive appunto il calcolo è molto semplice dobbiamo andare a prendere il valore del sottostante peggiore nel caso in cui sia sotto la barriera e dividerlo per la barriera quindi sono prodotti che da altri emittenti vengono chiamati anche lo strike quindi magari si può aiutare perché vengono chiamati appunto in questa maniera perché la perdita si va a calcolare dalla barriera e non dal valore iniziale quindi partendo da sotto naturalmente la perdita è più contenuta nel caso in cui siamo nel caso peggiore e quindi insomma una cosa che a me viene in mente su questo è che sono molto conservativi rispetto a un prodotto normale nel caso in cui ci troviamo nella situazione peggiore allora possiamo andare a vedere i prodotti sono parecchi prodotti abbiamo due pagine di tabella senza andare a vederli tutti abbiamo sia sottostanti italiani che sottostanti americani e che panieri tematici per esempio paniere tematico sull'automotive sulle case farmaceutiche sui titoli tecnologici americani eccetera eccetera e a seconda della rischiosità naturalmente pagano appunto più o meno Pierpaolo so che non so quali avevi visto tu quindi guarda se sei d'accordo mi prendo il monitor e così vediamo anche un po' meglio l'analisi del scenario dell'airbag sì te lo passo subito sì grazie grazie mille eccetera eccetera ecco intanto io guardo le domande sì allora guarda ne abbiamo tre selezionati partiamo dal primo è un quindi un cash call e Banca d'America al momento la situazione è quella che vediamo cioè il peggiore tra i due e Citigroup con un guadagno dello 076 poi c'è Banca d'America che è più più sua più 382 diciamo che c'è un vento favorevole sulle banche americane in particolare ma non solo insomma anche a livello un po' europeo sembra esserci stato e potrebbe essere ancora così comunque indipendentemente questo a noi non serve necessariamente che salgano questi titoli sarebbe sufficiente anche che rimanessero al di sopra della barriera del 75% quindi barriera 75% per il premio trimestrale dell'uno e 25 che quindi corrisponde praticamente a un 5% annuo e con effetto memoria la prima data di osservazione sarà il 20 maggio 2021 quindi premio 1 25 poi da partire d'agosto prima data di rimborso anticipato trigger 100% quindi rimborseranno rimborserà se tutti e due i titoli saranno sopra strike qui si si apprezza di più l'analisi di scenario si apprezza di più l'effetto airbag vediamo come praticamente il certificato nel migliore degli scenari potrà rimborsare 110 euro a scadenza quindi il capitale più tutte le cedole previste quindi un rendimento massimo dell'11,8 ma come a fronte di un meno 30% da parte del titolo peggiore che in questo momento è appunto City andrebbe a perdere fondamentalmente solo il 4 e 42 questo nel peggiore degli scenari cioè se non incasso neanche una cedola ma se ad esempio incassassi almeno due cedole di queste la perdita sarebbe limitata a circa un 2% a fronte di un meno 30% quindi ecco come si apprezza di più l'effetto airbag vediamo come in discesa linea rossa il certificato in linea gialla sia in realtà capace di mantenere il capitale in maniera decisamente maggiore rispetto ad un analogo prodotto senza airbag quindi questo è il primo due titoli settore bancario potrebbe essere preso in considerazione te ne faccio vedere un altro invece questo era appunto il primo non so se ci sono domande ma insomma il funzionamento è quello che hai descritto altro certificato molto simile anzi molto simile in realtà del tutto simile sempre stessa scadenza due anni in questo caso abbiamo come sottostanti apple e amd quindi advanced micro devices entrambi in questo momento in negativo meno 5 per cento per apple meno 353 per amd certificato che paga cedole trimestrali del 2 75 quindi decisamente più importante come premio rispetto al precedente era 1 e 25 qui abbiamo 2 75 aumenta di conseguenza il potenziale rendimento siamo addirittura al 25 e 62 per cento e se consideriamo anche un'ipotesi di meno 26 per cento per uno dei due titoli in particolare per il peggiore da adesso che apple si andrebbe comunque a casa con un rimborso positivo rispetto al prezzo attuale che è 97 12 meno 30 si perderebbe 2 60 ma basterebbe incassare una cedola e praticamente sarei in punto di pareggio quindi certificato molto interessante anche in considerazione del fatto che i due titoli apple e amd non sembrano soffrire in questa fase del rischio di perdita superiore al 30 per cento ad oggi poi chiaramente si si vedrà nel corso del tempo certificato che potrebbe andare anche qui in rimborso anticipato ad agosto rimborsando cento due virgola settantacinque se così fosse sarebbero cento cinque virgola cinquanta di rimborso rispetto ai novantasette euro a cui si può acquistare oggi terzo ed ultimo sempre della stessa famiglia qui abbiamo invece tre titoli e quindi possiamo vedere prezzo novantatré virgola sessanta quattro scendiamo ancora tre titoli baidu e attendiamo che si carichi e poi eh lo lo possiamo leggere questa è la nuova chat lab se non sbaglio esattamente questo è la chat lab nuovo che è in fase finale di test dovrebbe essere rilasciato ormai spero a breve e quindi tra le varie novità c'è anche l'analisi di scenario comprensiva di cedole che è molto utile per avere un'idea di tutto quello che si guadagna al di sopra della della barriera cedola certo quindi grazie marco di averlo non ho notato adesso infatti la prima volta che lo vedo esatto è anche una veste grafica nuova tante dimensioni differenti e quindi baidu nike e alfabeto cioè la vecchia google qui abbiamo una situazione praticamente di stabilità sugli strike iniziali cento per cento dello strike iniziale praticamente per tutti tranne per baidu che è leggermente negativa ma prezzo 93,64 perché questa situazione magari marco questo ce lo puoi raccontare tu secondo te come mai quota così basso ti finisco solo con il raccontare che il certificato paga cedole trimestrali del tre per cento quindi siamo in salita siamo partiti all'uno e venticinque due settantacinque arriviamo al tre trigger cedola settanta per cento quindi vuol dire che si incassano fino al meno trenta e rimborso anticipato a partire d'agosto sempre allo stesso modo analisi di scenario ancora più interessante rispetto alle precedenti trentadue virgola quarantadue per cento di rendimento potenziale a due anni praticamente a meno trenta si è ancora in positivo perché siamo praticamente a sconto con il prezzo di acquisto rispetto alla performance di baidu che il worst off a meno cinquanta per cento si perderebbe il ventiquattro per cento ma come detto se si riuscissero ad incassare due tre quattro cedole prima di arrivare a meno cinquanta sarebbe una perdita ridotta a un dieci dodici per cento quindi è vero che c'è più rischio però è altrettanto vero che il certificato paga bene ed è un ottimo profilo e e così si può apprezzare ancora meglio dall'airbag vedi qui come effettivamente ci sia molto ampio tra la linea rossa che è il sottostante e la linea gialla e tra l'altro è un gap che aumenta nel corso del tempo l'unico scenario negativo sarebbe qui in prossimità di un più trenta per cento del titolo ecco Marco magari può essere utile spiegare così per commentarlo come mai questo certificato oggi quota novanta 364 con il titolo peggiore che è sullo strike essendo comunque rispetto magari ai precedenti questi sono tre titoli tecnologici quindi parliamo di volatilità in questo caso credo di sì credo che sia proprio questo assolutamente in questo caso beh naturalmente come sappiamo come vi ha detto all'inizio quando parliamo di costruzione di un certificato parliamo come diceva Pierpaolo innanzitutto di correlazione nel caso in cui abbiamo più di un sottostante quindi nel caso in cui ci sia un solo sottostante andiamo a vedere dei parametri quando andiamo a mettere più di un sottostante questi parametri naturalmente sono di più aumenta anche la complicazione nella strutturazione del prodotto e nel rischio quindi naturalmente quando andiamo a scegliere questo lo dico anche per tendenzialmente darvi un criterio che deve aiutarvi nella scelta dei prodotti che va dal di là della barriera e del premio che pagano nel momento in cui andiamo a scegliere un certificato che abbia un paniere di azioni come sottostanti dobbiamo anche capire quanto sono correlati perché naturalmente più sono correlati i sottostanti tendenzialmente meno alto è il rischio perché questo perché se abbiamo dei sottostanti che sono molto appunto scorrelati tra di loro decorrelati tra di loro quello che succederà è che aumenta la probabilità che uno di questi è a scadenza quoti al di sotto della barriera quindi nel momento in cui andiamo a scegliere un certificato controlliamo anche se anche senza andare a come dire calcolarci la correlazione possiamo andare a vedere anche se questi appunto sottostanti siano appartenenti per esempio alla stessa industria quindi se sono tutti automotive piuttosto che se abbiamo uno sottostante che può che 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 è un automotive un altro che un bancario un altro che appartiene a un'altra industria quindi più decorrelati sono tendenzialmente più alto il rischio quindi se andiamo a prendere due prodotti che pagano lo stesso rendimento uno ha dei sottostanti decorrelati l'altro no tendenzialmente possiamo pensare che il rischio è più elevato dove i sottostanti sono decorrelati questa è la prima cosa che dobbiamo andare a vedere la volatilità è un'altra quando un certificato viene costruito naturalmente è una cosa di cui parliamo spesso e di cui abbiamo parlato molto spesso anche l'anno scorso quando ci sono stati dei casi evidenti noi andiamo tendenzialmente a come dire vendere volatilità quindi l'investitore va a vendere volatilità sul mercato perché è lungo sul sottostante e perché perché questi prodotti sono costruiti tramite strutture opzionali naturalmente a parità di sottostanti quindi come magari in questo caso in cui i sottostanti sono ancora sulla pari nel momento in cui il prodotto è già costruito sul mercato nel caso in cui la volatilità salga appunto c'è la volatilità dei sottostanti salga quello che succede al prezzo del certificato è che vedremo una discesa di questo prezzo perché questo perché in quel momento è possibile strutturare un prodotto tendenzialmente che paghi un prezzo più alto oppure che abbia una barriera più conservativa e con le stesse condizioni e con gli stessi sottostanti quindi appunto questa è un'altra cosa magari un po' più tecnica da tenere in considerazione nel momento in cui vediamo che il prezzo cambia anche a parità di prezzo dei sottostanti quindi magari come in questo caso che come appunto giustamente facevi vedere Pierpaolo abbiamo i sottostanti che quotano più meno alla pari il prodotto che quota invece sotto la pari perché una delle cose che potrebbe essere successo è che la volatilità dei sottostanti sia aumentata e appunto rispetto al momento in cui il prodotto è stato emesso quindi questa è una cosa a cui bisogna fare attenzione e sapere quindi appunto tenere in testa che nel momento in cui noi andiamo a vendere andiamo a comprare un certificate siamo corti di volatilità sui c'è però ecco però c'è da dire ecco magari quello che possiamo aggiungere che chiaramente questo potrebbe giocarci a favore no perché nel momento in cui noi oggi acquistiamo a novantatré e settanta un certificato che ha il sottostante in realtà è a meno zero cinquanta dallo strike iniziale vuol dire che lo stiamo prendendo a sconto proprio per effetti una volatilità che è cresciuta dopodiché è vero che la volatilità può ancora salire ma se dovesse tornare indietro a parità di sottostante più o meno il certificato tenderebbe comunque a pagare quindi quando la volatilità sale potrebbe e lo abbiamo già visto bene nel 2020 ma insomma in linea generale quando la volatilità tende a crescere è il momento migliore per eventualmente comprare e non farsi prendere dal pane per vendere e Marco siamo più o meno in chiusura però ho ancora un paio di idee da vedere ah perfetto hai già tu lo schermo quindi direi non perdiamo tempo utilizziamo direttamente il tuo perfetto allora guarda ti dico la prima che possiamo andare a vedere è questo cash collect autocollable lo riprendo sempre da qui così possiamo vedere comprensivo di cedole e l'analisi di scenario quindi struttura classica cash collect autocollable quindi premi periodici opzione di rimborso anticipato emissione di luglio 2020 scadenza luglio 2023 tre anni di durata prezzo novantotto virgola ottanta eh certificato che ha come sottostanti tre titoli quelli che di cui tra l'altro hai parlato prima come titoli preferiti no tra tra i quelli che vengono acquistati più Enel Eni Intesa San Paolo un trittico intramontabile per il nostro mercato più diciotto per cento la performance di Intesa dall'emissione più quattro per cento circa per Eni più tre e venticinque per Enel quindi al momento abbiamo tutti e tre i titoli sopra strike iniziale date di osservazione pagamento di premi trimestrali del tre per cento quindi per darci un'idea quello di prima è emesso adesso tre per cento a trimestre a è vero che all'airbag però a tre titoli tecnologici qui erano e sono invece tre titoli soliti come Eni Enel e Intesa San Paolo tre per cento a trimestre perché perché quando è stato emesso a luglio duemilaventi la volatilità era più alta rispetto a quella attuale quindi le condizioni di mercato hanno permesso la costruzione di un prodotto del genere barriera al sessanta per cento sia per la cedola sia per il capitale effetto ehm scusate non c'è memoria in questo caso sulle sulle cedole questo è l'altro elemento che fa sì che il certificato abbia dei premi un po' più alti. Comunque. Per Paolo chiedono l'aging di questo prodotto. E ci credo perché mi è piaciuto molto anche al nostro studio studi. VN30 HV4 Firenze Domodosso Lacomo 6 prezzo di acquisto novantotto e ottanta prima data o meglio prossima data autocallable quindici aprile quindi praticamente fra poco meno di due mesi potenziale rimborso anticipato centotre euro novantotte e ottanta rimborso a centotre sono circa quattro punti e mezzo e se vai in autocall se non ci va rimane comunque in portafoglio un prodotto che paga potenzialmente il dodici per cento anno con barriere che effettivamente a questo punto iniziano a diventare molto basse perché avremmo comunque 4 del 76 su Enel 5 23 su Eni 1 e 0 5 su Intesa quindi anche pensandolo nell'ottica del mancato rimborso anticipato ecco per essere un prodotto perfetto gli manca solo la memoria però se escludiamo per buon senso e per auspicio che si possa tornare a livelli addirittura peggiori di quelli toccati a marzo 2020 forse la memoria non serve ecco mettiamola così quindi scusa mi parla si diventa rotto però sono andate due domande sull'easing di prima e su amd apple sì due domande sull'easing di prima su apple allora amd ed apple quindi era praticamente il secondo eccolo qui di e tre zeri hv4 k como bologna zero questo apple e amd in quotazione a 97 30 premi trimestrali a 275 perfetto grazie mille ok quindi questo è il eh enel è in Intesa ti faccio vedere anche l'ultimo poi chiudiamo magari con le ultime domande e qui abbiamo invece un cash collect memory ovvero sempre alla fine la famiglia è sempre la stessa di cash collect autocallible con la differenza che alla memoria questa è un'emissione un po' più vecchiotta è di novembre 2019 quindi strike precedenti è tutto quello che poi è stato a partire da marzo 2020 poi lettera 97 e 73 sottostanti veolia iberdrola ed enel due enel e iberdrola sono diciamo in una posizione di discreto vantaggio più 18 per cento dallo strike iniziale l'unico un po' debole è in questo momento veolia che perde il tre per cento ma in ogni caso anche qui abbiamo barriere che non sono state mai neanche lontanamente avvicinate e eh certificato che paga un premio mensile dello zero cinquanta sette in questo caso con effetto memoria possibile rimborso anticipato a partire dal cinque marzo quindi dovremmo guardare in realtà solamente a veolia che perde il tre per cento gli altri due dovrebbero essere al riparo almeno sul breve da 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 discese importanti quindi se veolia recuperasse il tre per cento da qui al cinque marzo il certificato andrebbe a rimborso anticipato cento più cinquantasette centesimi quindi cento virgola cinquantasette prezzo di acquisto novantasette e settantatré quindi sono quasi quattro euro e scusa sono quasi tre euro e quindi una buona opportunità se non vai rimborso anticipato si continua ad incassare cedole finora non è assaltata mai neanche una e quindi potrebbe rimanere in portafoglio un prodotto che paga comunque quasi un sette per cento annuo di cedole più naturalmente il guadagno in conto capitale anche qui l'analisi di scenario è abbastanza generosa vediamo come comunque da qui a novembre duemilaventitré sono due anni e mezzo circa ventuno per cento di rendimento eh a scadenza e a fronte di un meno cinquanta perfettamente lineare quindi si pagherebbe esattamente ciò che è la performance del sottostante quindi certificato anche qui al nostro per il nostro ufficio studi da prendere in considerazione da tenere a monitor io ne approfitto per rispondere a una domanda di Mauro che chiede in caso di necessità di smobilizzo se c'è sufficiente book e assolutamente soprattutto in caso di vendita e l'emittente garantisce la possibilità in ogni momento di appunto di vendita e attraverso la presenza nel book in market e appunto in quanto market maker e quello che io posso consigliare nel caso in cui perché appunto è giusto dire che appunto che noi ci siamo eccetera però ci sono casi in cui può essere che il market maker non sia presente in quel caso l'invito è di contattarci immediatamente tramite i nostri contatti numero verde o la mail info.investimentichiocciolaunicredit.it e provvederemo immediatamente a tornare sono comunque casi rari però mi sembra giusto dirlo e non c'è invece sempre la possibilità di acquistare i prodotti tra l'altro abbiamo avuto un po' di chiamate oggi al nostro numero verde proprio in tal senso perché della nostra ultima emissione e di cash collect worst of abbiamo avuto ben tre prodotti che hanno terminato la size quindi abbiamo terminato appunto l'intera quantità disponibile alla vendita quindi in quel caso noi siamo sempre disponibile al riacquisto ma non è più possibile acquistarli dal market maker quindi la possibilità appunto di vendita è sempre garantita. Un'altra domanda che quando si parlava di questi prodotti una domanda di Omer e adesso appunto chiede se è sufficiente che un titolo tocchi la barriera per non pagare in questo caso in verità la barriera è una barriera europea quindi discreta quindi una barriera che viene osservata solamente i giorni delle date di osservazione per quanto riguarda il pagamento e a scadenza per quanto riguarda il rimborso finale quindi tra l'altro non basta che vengano toccate devono essere superate quindi i giorni delle date di osservazione praticamente si andrà a vedere la chiusura il valore di riferimento ufficiale dei titoli sottostanti si va a prendere il peggiore e si va a verificare se è inferiore a livello di barriera e quindi è sufficiente che appunto il peggiore sia oltre appunto tutti i prodotti che abbiamo visto sono prodotti di tipologia worst off quindi si va a prendere il peggiore però devono non toccarla ma superarla e non è in continuo ma è solamente nei giorni di osservazione. Paolo io ho un'ultima domanda che è un'analisi di un prodotto in verità quindi non so se vogliamo dedicare, se vuoi ti do il codice ISIN Sì guarda è solo un istante che volevo farti vedere nel frattempo che parlavi e rispondevi alle domande ho voluto fare una prova. Ha dato tanti complimenti per il nuovo Cedlab scusami perché questo era per te Ah ok, spero che l'avevano notato prima di me Esatto di poterlo rilasciare allora tra le funzioni c'è anche questo strumento di merge cioè di poter costruire delle combinazioni di certificati e quindi una sorta di portafoglio e quindi ho voluto mettere assieme cinquanta per cento e cinquanta per cento i due airbag sui due tecnologici no? Quindi Baidu, Google e l'altro era Apple e AMD quindi ipotizzare di investire cinquemila euro su uno e cinquemila sull'altro e questa è l'analisi di scenario che ne viene fuori quindi verrebbe fuori un rendimento comunque del ventinove per cento anche a fronte di un meno venti a meno trenta si sarebbe ancora protetti nel capitale a meno cinquanta si dimezzano le perdite in modo eventualmente da considerare avendo stessa scadenza diversi titoli però combinandoli tra loro questo è il risultato che si può ottenere cioè potremmo anche considerare essendo entrambi caratterizzati da stessa struttura e stessa scadenza di metterli assieme quindi ecco volevo completare pensando che una struttura già di per sé difensiva magari diversificando come sottostanti si può ottenere un risultato ancora ancora più interessante invece perfetto ecco invece l'isin e l'isin e allora domodossola empoli zero 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 hv4 sì j q trentasette è un bonus capsule france ok allora poi chiedono quando sarà disponibile in modo c'è la sono tante domande su questo quindi facendo questo lancio la prima volta in assoluto quindi nel club è la prima volta che lo mostriamo quindi ci stava che ci fosse un po di curiosità e ok qual è la domanda per questo e allora ti dice che ce l'ha in portafoglio se si poteva fare un'analisi e appunto rispettivamente al mantenimento o meno diamo se è più preciso allora aspetta che andiamo di qua perché lì essendo in test ogni tanto scaricano i dati e poi da pomida all'errore quindi qua lo vediamo ancora sul vecchio allora sottostante air france quindi barriera 2 97 adesso siamo a 4 70 è stata toccata diciamo così nel periodo nel periodo covid è una barriera continua quindi no in realtà non è stata toccata no non è stata toccata esatto perché è stata toccata prima cioè il grafico fa vedere lo storico è messo da pochissimo da da un mese da un mese esatto il 18 gennaio è stata la data di regolamento sì esatto quindi emissione 13 vedo qui allora non so che prezzo l'abbia preso però direi che al momento se non si hanno prospettive cupe nuovamente sul settore airlines e soprattutto se si ha un po' di fiducia nella ripresa delle attività e quindi forse anche in prospettiva dei puli fermo restando che non serve che france recuperi basta che non crolla da oggi no è un certificato che può dare ancora spazio cioè se lo ha comprato molto sotto la pari e allora ci sta che chiaramente uno si potrebbe anche accontentare ma essendo stato emesso a gennaio dubito perché questo non penso che sia andato molto più giù dei cento euro a cui quota adesso cento cento uno quindi mi sembra di dire che è un certificato che lascia ancora intatte tutte le potenzialità il titolo è a meno cinque il premio è ancora del sette per cento quindi se lo ha comprato direi che si può continuare a tenere in portafoglio non ci sono motivi allarmati oggi per doverlo chiudere vedo che la barriera in questo momento distante un trentasette per cento appunto rendimento e scade aggiungi circa da giugno in effetti vediamo se si 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 ma poi lo possiamo vedere anche naturalmente di qua lo abbiamo insomma si dice che l'ha preso e per la durata appunto una durata una durata breve è quello che l'ha convinto appunto all'acquisto si rendimento potenziale anno ancora del venti per cento appunto la scadenza è breve comunque sul titolo Air France per quanto ovviamente le difficoltà possano esserci ancora però potrebbe rimanere un trentasette per cento è una buona una buona difesa ma ripeto soprattutto cioè se lo ha preso a novanta e oggi sta a cento uno uno diceva sai ma contento di un dodici tredici per cento ma nel momento che vedo che il minimo lo ha fatto a novantasei e settantacinque lo terrei ancora non vedo motivi oggi per doverlo vendere d'accordo perfetto allora abbiamo risposto a tantissime domande sia in formato video che in formato scritto come sempre quindi se non ci sono altre domande direi che abbiamo sforato abbondantemente come sempre però mi piace che appunto la partecipazione rimane alta anche quando sforiamo quindi vuol dire che tendenzialmente c'è interesse quindi niente per paolo io ti ringrazio anzi volevo solo dire faccio un po di pubblicità ulteriore sull'ultima emissione che abbiamo fatto parliamo di un prodotto completamente diverso parliamo di un prodotto a leva sui turbo sui turbo e abbiamo emesso come unicredit la settimana scorsa una gamma di turbo closed end quindi prodotti che hanno una barriera e che che hanno appunto sono dei turbo però a differenza di quelli che avevamo già sul mercato e hanno una scadenza tendenzialmente a tre sei mesi e hanno a differenza dei turbo open end hanno una il livello di strike che rimane fisso e faremo un webinar domani e per chi fosse interessato si può contattare a info punto investimenti chiocciola unicredit punto it tramite il sito punto investimenti punto unicredit punto it eppure e in cui andremo a appunto spiegare come funzionano insieme a pietro di lorenzo quindi chi volesse che fosse interessato si può naturalmente connettere anche domani e parleremo di questi prodotti chiuso tutto perfetto eccoli là turbo long turbo short perfetto sono sono quelli che sta facendo vedere in questo momento pierpaolo sono in questo momento li abbiamo emessi solamente sui maggiori titoli italiani e abbiamo già visto interesse comunque sono prodotti che scambiano e che sono utilizzati sempre di più dagli investitori quindi parliamo di un prodotto di trading quindi una cosa completamente diversa di quello di cui abbiamo parlato finora ne parleremo domani in maniera più approfondita chiunque volesse unirsi a noi appunto può iscriversi al webinar tramite il nostro sito o ci può contattare tramite mail fatta quest'ultima marchetta finale pierpaolo io ti ringrazio come sempre grazie a tutti i partecipanti e per qualsiasi domanda siamo disponibili ai nostri contatti naturalmente ci vediamo al prossimo webinar buona serata grazie a buona serata a tutti Grazie.